Ecco, lei con i bambini, quale futuro li aspetta e quale futuro lei si augura per i bambini di oggi? Presidente, quale futuro lei si augura per i nostri bambini? Presidente, quale futuro lei si augura per i nostri bambini, quale futuro lei si augura per i nostri bambini? Presidente, quale futuro lei si augura per i nostri bambini? Presidente! Presidente! Hey! Tenga! Tenga! Guardi va! Tenga! 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 Tenga tenni! Tenga! 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 T生. Tenga! Grazie a tutti. Grazie a tutti.